buon natale buon fine anno palla di vetro cubo di tunsteno simboli che come vi ho in altre volte in passato raccontato indicano i cambiamenti e di solito i cambiamenti ve li ho sempre delineati piuttosto bene anche questa volta ci tengo come ultimo messaggio dell'anno perché poi l'intenzione di chiudere la saracinesca potrebbe esserci magari un fuori programma stanotte per lo spiegone della poltrona per due ma di base vorrei che questo qui fosse l'ultimo messaggio dell'anno perché con la chiusura della legge di bilancio non ho più da informarvi di nulla di urgente e vorrei dedicare un po di giorni alla mia famiglia che sono stati clamorosamente trascurati in quest'anno di lavoro e campagna elettorale e di ultima guerra al vecchio regime ecco diciamo così è stato un anno complicato credo che i risultati siano stati positivi non dimentichiamo da dove venivamo non dimentichiamo cosa c'era da far da far da far cambiare all'interno di chi meditava o medita di prendere il potere in italia ma soprattutto io vorrei sinceramente parlarvi di una cosa piuttosto importante e che è una mia visione di come andrà prossimo i prossimi anni perché io sto sempre più chiaramente percependo un cambio di quelli epocali un cambiamento di quelli che poi rimarranno segnati nel libro di storia quando si racconterà del secolo presente quando uno dice poi a partire dagli anni venti successe questo successe quest'altro con dei forti cambiamenti rispetto a dove venivamo vi dico come la vedo io vi dico come la vedo io e questo serve perché così possiamo essere pronti e preparati per dove bisogna andare e ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti io penso che noi abbiamo o siamo sopravvissuti a un tentativo messo in atto con enormi mezzi per riuscire a costruire un certo tipo di società dal mio punto di vista totalmente distopica un incubo io credo che l'intento di tantissimi gruppi di potere era quello di costruire una società sempre più basata su questo paradigma persone chiuse in casa rimbecillite su su facebook sui social o su qualsiasi altra cosa insomma che consentisse di tenere viva il minimo indispensabile la mente senza spostarsi di casa tenuti in vita da una una specie di flebo di reddito di cittadinanza chiamiamolo come vogliamo insomma c'è un un guadagno minimo per per i per i bisogni di base consegnati a casa da qualche mega multinazionale della consegna domicilio ecco credo che l'intento di una società ideale per enormi gruppi di potere e di politica fosse questo persone a casa nel metaverso infatti guarda caso ci sono stati anche dei cambi di nome no nella realtà virtuale con un minimo di sussistenza e consegna a domicilio questo secondo me rispondeva una visione totalmente dal mio punto di vista folle del mondo occidentale visto come un mondo dove praticamente non ci sarebbe stato più bisogno del del lavoro così così come lo conosciamo e quindi bisognava trovare qualcosa da fare a milioni di parassiti a quel punto che avrebbero dovuto essere tenuti buoni per evitare agitazioni o similari e condizionati a fare quello che quello che si vuole quante più persone si fossero trovati in questa condizione quanto meglio quanto meglio sarebbe stato infatti guarda caso si prendono quelli più facili no a diciamo così a essere convinti no a fare qualcosa da parte di qualcuno di questi di questi poteri forti per esempio cinque stelle no e similari e di si costringe o diciamo li si induce a portare la politica esattamente da questo lato qui quindi delegittimazione della politica della vita reale spinta verso una vita virtuale spinta verso la flebo di stato no quindi il reddito di cittadinanza e la mancia per per sopravvivere e totale sudditanza verso queste enormi e ricchissime multinazionali che avrebbero provveduto a questi bisogni base no a queste a questi milioni di persone la pandemia credo che sia stato mi verrebbe a dire non so se provocata non so se semplicemente cogliere l'occasione ma direi che è stato il tentativo finale per arrivare a questo risultato no cioè anni 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 di preparazione arriva la pandemia e finalmente arriva il sogno di poter chiudere definitivamente tutti in casa rimbecilliti nel del metaverso con qualche qualche soldo per per riuscire a mantenere e poi la scommessa era che una volta provato a rimanere a casa non sarebbero usciti più no la gente avrebbe capito che quello era il modo migliore per vivere ecco io credo che sia invece come spesso succede quando uno poi alla fine diciamo immagina una società in un certo tipo non sempre poi la società va in quella direzione perché ha a che fare con l'uomo e l'uomo è imprevedibile per natura se ci fosse la possibilità di di capire che cosa che cosa sono le reazioni umane agli stimoli esterni avremmo non avremo problemi nell'educazione dei figli non avremo problemi non non è così cioè alla fine la psicologia delle masse è quello che vogliono le persone le mode quello che chiedono e non è comprensibile non è immaginabile per cui io penso che sia scattato qualcosa io penso che sia scattato a una reazione tale per cui le cose sono andate o stanno andando in maniera lievemente opposta rispetto a quello che molti si auspicavano che sarebbe andata io penso che la gente abbia cominciato a capire che vuole uscire abbia cominciato a capire che non gli va di stare in casa abbia cominciato a capire che preferisce andare in giro preferisce viaggiare preferisce andare a vedere una partita di calcio dall'altra parte del mondo magari preferisce andare a vedere un concerto all'aperto preferisce ritrovarsi preferisce vedersi di persona preferisce andare a una festa preferisce andare a vedere una città d'arte preferisce andare a vedere un museo preferisce vivere io credo che in questo momento quel piano sia o stia sia stato spinto così in avanti da far scattare invece un qualche una qualche reazione tale per cui il risultato è che al momento le cose non stanno andando così e lo vedo io dai vecchio di borsa lo vedo da due cose lo vedo dai prezzi delle azioni di queste multinazionali che stanno tutti uno dopo l'altro prendendo e crollando lo vedo da riscontri che mi sembrano abbastanza evidenti provate a vedere quest'anno cos'è stato anche il fatturato delle città d'arte il turismo il movimento di persone per 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 treni auto aerei sono cambiate è cambiata è cambiata chiaramente l'aria è cambiata l'aria e lo si è cambiata l'aria anche politicamente lo vedete siamo in un in un mondo diverso certo c'è c'è molto ancora da smantellare tutti i palazzi sono 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 ancora pieni di quelli che la pensano ancora in un'altra maniera non europea figurati ma stanno crollando alcune cose lo lo sentite lo che è chiaro che stanno crollando alcuni centri di potere e ci sono delle modifiche in corso che sono dal mio punto di vista assolutamente evidenti e l'altro aspetto che mi fa capire che è cambiata l'aria e che cambia anche il tipo di percezione del mondo è l'inflazione adesso non vogliatemene ma il mondo cioè non è che io guardo solo le cose con gli occhi dell'economia però è evidente che quello è il mio il mio campo il mio mestiere e quindi mi so che cosa significa o cosa cosa comporta una stagione inflattiva rispetto a una stagione deflattiva il periodo della deflazione è durato decenni decenni e la deflazione comporta più peso del capitale la deflazione comporta più peso di chi ha soldi comporta penalizzazione di chi è indebitato comporta un vantaggio per chi ha il reddito fisso e comporta uno svantaggio se appli se diciamo messo vicino oltretutto a un una scarsa crescita come come il caso dell'italia per chi ha una reddito un reddito variabile per l'autonomo ma non ci pensate ma scusate questi vent'anni 25 anche 30 quasi il vincitore di questo periodo chi è stato è stato chi aveva lo stipendio fisso no ma non dovrebbe essere così cioè la scelta dello stipendio fisso cioè del lavorare del lavoro dipendente dovrebbe essere pro ci dovrebbe essere pro contro non dovrebbe essere il sogno lo stipendio fisso viceversa un'inflazione zero e un calo costante del pila dietro manovre di austerità no e così via hanno portato che se tu avevi un impiego fisso in banca perché eri funzionario di banca o da qualsiasi altra parte statale o così questo tipo te la sei cavata viceversa dall'altra parte tanta gente ha corso come un criceto per anni cercando arrabbattandosi no di riuscire a venirne a una con il negozio con lo studio con la professione no con qualsiasi cosa senza riuscire quasi mai a mettere le mani su nulla tanta gente io ho visto questi in questi anni che hanno fatto la vita del criceto quello che correva sulla ruota e non va da nessuna parte io penso io penso che quest'anno abbiate cominciato a vedere che c'è un cambiamento io credo che quest'anno senza generalizzare ma chi aveva una professione un'attività un uno studio un'agenzia o quello di questo tipo cioè insomma un lavoro variabile mi verrebbe da dire autonomo variabile secondo me ha fatto per la prima volta dopo qualche secolo ha fatto più soldi rispetto al reddito fisso secondo me e se credo che voi conoscete qualcuno fra se non siete direttamente voi o capite che quello che dico è vero se le cose stessero così e quindi si passa un mondo inflattivo bisogna stare molto attenti perché a quel punto significa che all'interno di questo cambiamento portato da persone che girano il tipo di di società che cambia più interazione e almeno per la prima fase un fatto di soldi che circolano di più e un misto sperando che che non si sommino insomma delle forze inflattive con anche l'aspetto che è stato principale per per l'inflazione quest'anno vale a dire vale a dire l'aspetto dell'energia beh occhio perché è un mondo differente è un mondo differente che come tutte le differenze non sta a me dire se è meglio o peggio ci sono vantaggi e svantaggi da tutte le parti però fa capire come una tua proposta politica deve cominciare a prendere in considerazione che molta dell'attenzione che tu in questo momento hai dedicato a certe categorie che hanno sofferto moltissimo pian 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 piano perché stiamo parlando di cose decennali dovrà dedicare più tempo e credo che dedicherò più tempo e già con altri colleghi io mi sto preparando per l'anno prossimo quindi preparatevi perché ci sarà forte elaborazione politica io voglio costruire in modo chiaro una proposta politica concreta che si che faccia capire dove o cosa vogliamo andare in questo mondo che cambia e bisogna secondo me dedicare più tempo rispetto a quello che si è fatto adesso a categorie che in questo nuovo mondo invece rischieranno di essere in difficoltà la prima fra tutte il lavoro dipendente l'ho detto secondo me questo nuovo mondo dal punto di vista della tenuta economica avrà inizialmente inizialmente come punto di frizione una compressione di salari e stipendi e pensioni io credo che queste tre categorie siano quelle dove fino adesso considerate solo delle mucche da mungere mi verrebbe da dire devono essere quelle a cui va o andrà prestata più attenzione politicamente perché bisogna accompagnarle in uno spostamento in un mondo che io mi auguro che sia migliore rispetto a quello distopico dove si finiva per cui è bello dire abbiamo abbandonato questa distopia entriamo in un mondo più normale ma non dimentichiamo che anche il mondo più normale alla fine ha dei poveri dei ricchi compito della politica non è riuscire a far cambiare il mondo perché il mondo abbiamo visto in ogni caso cambia in certi casi da solo indipendentemente dalla volontà di forze anche potentissime molto più forti del sottoscritto bisogna cercare di rendere questa nostra società la più vivibile possibile per cui un minimo di focus in più che poi dovrà essere accompagnato per salari stipendi e pensioni credo che debba essere il cuore della nuova declinazione della nostra proposta politica questo non significa che si abbandonano le partite IVA o così via lo vedete stiamo facendo delle idee che io sono assolutamente convinto che consentano di lasciare più libertà alla gente dovrebbe esserci questi due paradigmi la libertà da una parte cioè il fatto di poter fare in modo che chiunque possa svolgere quello che desidera nella maniera più dignitosa possibile nella maniera più semplice possibile ma la libertà in questo momento nel momento stesso in cui parte un mondo inflattivo e con un tipo di economia meno ingessata e meno basata sulla flebo per il lavoratore dipendente sarà la libertà dalle pastoie dal tempo l'idea del forfettario che si allarga quindi del 15% forfettario che già subito da questa finanziaria riusciamo a portare di 85 mila euro di fatturato è in quella direzione lì cioè libertà di poter avere più tempo per fare quello che ci piace non essere seppelliti da scartoffie quindi da una parte accompagnare verso questi due pilastri cioè la libertà che va bene per tutti e va bene soprattutto per gli autonomi che per loro vocazione se hanno scelto questo tipo di di vita lavorativa per loro è un per voi dico per loro perché io non ho mai fatto l'imprenditore ecco mi viene da dire ammiro costantemente chi ha il coraggio di farlo e rischiare ogni giorno di proprio però è anche sintomo di un indole cioè del volere essere libero ecco bisogna cercare di spingerla e aiutare questa 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 implicazione e poi l'economia vi aiuterà e aiuterà anche molto per chi ha buona volontà e chi ha buone idee a rimettersi a rimettersi a recuperare parte del terreno del terreno perduto e dall'altra parte invece offrire tutela a chi fino adesso in questo momento è stato più tutelato degli altri ma non è che perché in passato è stato più tutelato degli altri ha calibrato la propria vita invece senza particolare rischio ma sulla cifra del proprio stipendio debba diventare istantaneamente deve andare alla fame bisogna riuscire a bilanciare queste due cose e riuscire a avere come capisaldi la tutela del lavoro la tutela del salario e la libertà di impresa se si riesce ad attuare questo semplice mi verrebbe da dire paradigma perché poi lasciamo perdere queste cretinate della legge di bilancio le piccole cose e così via qui bisogna dare una direzione il simbolo della mia famiglia il motto della mia famiglia è il vento è sempre favorevole per chi sa dove vuole andare è fondamentale capire dove stiamo andando e dove vogliamo andare perché sennò altrimenti la traduzione latina viene da Seneca era ignoranti quen portum petat nullus sus ventus est cioè chi non sa in che porto vuole andare qualsiasi vento è sempre contrario cioè non bisogna avere un'idea quella si può cambiare però in questo momento dopo aver raffinato il controllo di tante situazioni e di di tanti indicatori anche economici di come stanno andando io sono abbastanza convinto che l'indicazione è questa è pronto per tornare indietro se per caso le cose invece non andranno come penso io ma in ogni caso devi avere un'indicazione secondo me il mondo andrà così secondo me il tentativo di farci arrivare con quel tipo di società è fallito ne sono molto contento è un simbolo il fatto che quest'anno si chiuderà con la fine del Green Pass e la fine di questo assurdo incubo di questo ultimo tentativo pazzesco per riuscire ad arrivare a questa società distopica del controllo totale ecco no non è questo anche in Cina mi sembra stiano reagendo cioè pure lì che probabilmente non sono stati gli ultimi nella regia di quelli che puntavano ad avere questo tipo di controllo stanno cominciando ad avere secondo me qualche lievissimo dubbio che il mondo dei sottomessi con quella flebo a casa non funziona per cui cominciamo a camminare giustamente come vi ho detto andare sempre avanti verso la fermata successiva sapendo dove vogliamo andare e aspettate nel dettaglio un'elaborazione di proposta politica che cerchi di accompagnarci tutti verso un mondo più sereno verso un mondo che magari potrebbe anche sembrare un po' più simile a quello del passato ma non è decrescita non è regresso è semplicemente togliersi da una strada del tutto sbagliata che tutto il mondo secondo me aveva imboccato e tornare su una società più normale e più umana il consiglio che posso darvi per un abbraccio consiglio a tutti grazie per averci supportati è stato un anno difficile specialmente diciamo la parte importante che deve essere ricordata è stata far finire il governo Draghi politicamente credo che sia stata la cosa fatta meglio che posso dire di questa mia esperienza prima esperienza politica della scorsa legislatura questa nuova è tutta da costruire e sarà come ho detto ancora di difesa o di costruzione però si sta evolvendo in una maniera molto più di costruzione rispetto a quella che io temevo che sarebbe stata è ovvio che ci sono delle battaglie immediate il no al mess che sarà ovviamente una delle prossime cose evidenti con cui noi dobbiamo combattere ma io sono sinceramente in questo momento molto più proiettato a capire come governare o come impostarsi su un mondo che sta cambiando in una direzione che mi piace ma che non è diciamo priva di rischi per cui l'augurio che posso fare a tutti è ovviamente di riabbracciarvi fra la vostra famiglia con i vostri amici di uscire di casa chiudere un po' i social chiudere un po' le serie televisive e così questo tipo sperimentate questa nuova aria uscite in strada guardate alzate lo sguardo non so come dire respirate aria nuova uscite con gli amici statevi vicini impariamo un po' tutti di nuovo a vivere non a sopravvivere e si può vivere anche veramente senza senza essere miliardari o semiari l'importante è ricominciare a trovarsi ricominciare a uscire ricominciare a vivere uscite di casa io chiuderò i social da qui fino al ricomincio fino alle ostilità di riprendere delle ostilità post epifania quindi non domandatevi se non sto bene oddio che fine ha fatto che fine ha fatto Claudio perché non scrive più voglio iniziare anch'io in parte a predicare o a realizzare quello che suggerisco a voi quindi starò molto vicino a mia mamma a mio papà ai miei figli a mia moglie in in questo in questi giorni andremo a fare passeggiate cercheremo per quanto possibile di accompagnare questo cambiamento che secondo me sarà molto positivo per la società ma che richiede attenzione come tutte le manovre quando si è in manovra bisogna sempre sempre fare attenzione guardare avanti guardare dietro e guardare di fianco grazie davvero però a voi perché indipendentemente dal fatto di come evolverà io so che ci sarete sempre e io ci sarò per voi perché siete la mia seconda famiglia ve l'ho detto da tempo e vi voglio bene tutti uno dopo l'altro se non ci fosse stato voi se non ci fosse stati voi il coraggio di riuscire a tirare avanti in certe situazioni in certe quando a un certo punto il nemico sembrava assolutamente invincibile e imbattibile non credo non credo che ci sarebbe stato quindi bene così chiunque chiunque di voi ha fatto la sua parte e sono convinto che la farà ancora in futuro grazie davvero auguri buon Natale grazie a tutti grazie a tutti